La sinergia che si è venuta a creare ritengo che sia di buon senso e pertanto ringrazio Teresa Calabrese, il sindaco. L'Assemblea regionale siciliana ha voluto patrocinare infatti questo evento che si terrà il 14 e il 15 che riteniamo possa essere assolutamente interessante. Anzi, se ci dovessero essere altre opportunità e altre iniziative che si vorranno svolgere su una tematica importante come questa che certamente rappresenta il futuro nostro e delle future generazioni, l'Assemblea regionale siciliana sarà sempre pronta a sostenerla. L'importante è per la provincia di Catania che le conosce? La provincia di Catania in particolar modo anche a parte perché mi ha dato i Natali e anche per il livello che c'è che probabilmente è un pochettino superiore rispetto ad altri, pertanto ritengo, ribadisco che eventi come questi siano assolutamente importanti e da sostenere e la presenza di oggi qui infatti è proprio per voler bollinare se si può utilizzare questo termine con la presenza dell'Assemblea regionale siciliana questa giornata.